Annunzio Fittipaldi di Francavilla in Sinni, il Bitonto firma un piccolo record, pareggiando cioè a Retintonse per la prima volta in stagione, e aggiunge un'altra piccola tessera, quel mosaico, fascinoso e impervio, che no ma si salvezza. Dopo la pausa dovuta alla ex Coppa Carnevale via Regina, i Leoncelli tornano su un campo che ultimamente non ha donato molti sorrisi. Mister Valeriano Loseto, che spegne cento candeline in panca in D, punta sempre su Petrarca in Porta, inaugura una nuova Maginò con l'innesto dell'Enfant du Pai Rapio accanto a Gianfrede Silletti, in Mediana Cardore direttore d'orchestra con Mariani e Clemente a Farlegna, Pendolini Cassano e Clemente, in attacco si rivede il genio di Maffei con la posse di Figliolia. Il vengher della D, Lazic, sceglie Maione in Porta e i due esposito, di Lonze e Pinna a formare il pacchetto arretrato, Marconato, Bucolo e Buchicchio a centrocampo, Nolè e Gentile a rifornir Rajkovic. Tacquino deserto da punti e grigiori intenso che viene timidamente vinto poco prima della mezza da un cross di Clemente, il duo offensivo fallisce l'impatto e pallone fra le braccia di Maione. Poco dopo, traversone di Maffei che non impensierisce l'estremo di casa. Minuto 38, botta di Nolè da distanza chilometrica, esito mesto e rimbalzante sul fondo. 120 secondi ed esposito Scodella da destra, Nolè arpione il cuoio in scivolata, i guantoni di Petrarca rassicurano i neroverdi. Si riprende e il mancino di Maffei si vila sopra la traversa. Settimo, ancora Nolè da piazzato, il portiere dal cognome poetico si inarca e mette in angolo, Donde spiove un allettante pallone che Marconato inzucca fuori. Il mediano si ripete col sinistro subito dopo, ma l'albero centrato è sempre lo stesso. Al dodicesimo, Raikovic serve su un argente o vassoio, un assist per Bucchicchio che stocca energico fuori d'un'anticchia. Gentile al ventiduesimo, doma la sfera e ci prova di sinistro, senza patemi Petrarca. All'ultimo respiro, su campanile di Alessio Esposito, sciagurato stacco in area di Gomes che schiaccia sul prato, manco fosse Zaitsev, Cavallaro di Rovigo non è l'arbitro di sedia e per fortuna non fischia. Così è un pari sempre più salvifico per i bitontini, che giovedì se la dovranno vedere con l'avello di Zeman Junior, e poca roba in fin dei conti per i sinnici, sempre più impegolati nelle sabbie mobili della classifica.